Una delle sposti più famose nel mondo, la fondista Elena Valde, cloricampionessa, vincitrice di moltissimi titoli, tra cui 5 titoli mondiali e 7 medaglie olimpioliche a squadra, che tramite le proprie amicizie ha scelto il nostro territorio di passare un periodo. Ha avuto notizia di questo evento, abbiamo deciso di omaggiare questo momento a noi del Consiglio Comunale.